host 2019 ci troviamo allo stand della rancilio group e siamo in compagnia del direttore commerciale dell'azienda andrea maschetti andrea bentornato grazie buongiorno a tutti oggi qui a host presentate un numero infinito di novità da dove partiamo? è vero quest'anno abbiamo introdotto molte novità sicuramente partiamo dal marchio rancilio che vedete in questa area dove abbiamo introdotto la nuova top di gamma la classe 20 che è una macchina caratterizzata sostanzialmente da nuove tecnologie per l'estrazione caffè in particolar modo per un'estrazione flessibile e stabile ma anche con la possibilità di fare profilazione adesso poi a parte un design accattivante abbiamo unito la esperienza dell'interfaccia touch screen che consente al barista di poter lavorare con facilità e controllare tutti i parametri della macchina e poi un nuovo concetto che è quello delle luci e la possibilità per ogni cliente di poter customizzare la parte laterale della macchina che ha luci RGB secondo i colori che preferisce quindi dal giallo al rosso al verde quindi teoricamente ogni giorno il bar potrebbe avere una macchina diversa e un'immagine diversa questo per quanto concerne il prodotto diciamo macchia tradizionale professionale dopodiché abbiamo introdotto un nuovo macinino studiato e sviluppato per il mercato specialty chiamato V50 con delle caratteristiche orientate a una macinatura perfetta per logicamente garantire al cliente finale la possibilità di avere un'estrazione perfetta del caffè in tazza mentre invece per quanto concerne la linea diciamo online o come noi chiamiamo casa abbiamo fatto abbiamo introdotto la Silvia Pro che è una macchina prosumer Silvia per noi un prodotto iconico soprattutto in tutto il mondo soprattutto nei paesi anglosassoni presente in tutte le case del mondo oggi anche in una versione più vicina al professionale con due boiler anche qui con la possibilità per il consumer di poter gestire in maniera indipendente i boiler e l'estrazione del caffè del vapore in maniera perfetta questo è la parte rancidio una parte anche tecnologica abbiamo sviluppato un dashboard per il controllo remoto delle macchine che abbiamo presentato e ha avuto un grande successo con tutti i nostri clienti sia per il marchio Rancilio ma anche per il marchio Egro per il marchio Egro macchina superautomatica la grande novità è la macchina Drip Coffee studiata per mercato americano ma tutti i mercati nel quale Drip Coffee viene richiesto che è in grado di poter estrarre in maniera veloce il caffè fresco all'americana con due grandi caratteristiche il fatto che rispetto al caffè americano e ai sistemi ad oggi in essere consente la possibilità di fare sempre immediatamente il caffè macinato fresco e in secondo luogo di dare un menù di bevande molto ampio perché munita di quattro tramogge è in grado di offrire ben quattro caffè e addirittura due blend di caffè mixati questo per quanto concerne la macchina Drip Coffee poi abbiamo implementato sulla gamma Egro il sistema latte che garantisce oggi la possibilità di fare il latte art quindi con la stessa qualità di un barista professionale e poi un'ultima soluzione che è quella del tea brewer che è una soluzione per l'estrazione anche del tè in questo caso non solubile ma tè in foglie per i mercati asiatici ma anche per i mercati europei dove il tè logicamente è molto richiesto. Una curiosità quest'anno è quella che abbiamo introdotto nel nostro stand l'Extraction Lab che è un nuovo reparto che oggi è stato introdotto all'interno del nostro gruppo dove presentiamo tutta questa tecnologia non dal punto di vista solo e unicamente di hardware ma anche di software quindi abbiamo fatto delle varie sessioni con degli esperti parlando di caffè e valutando e facendo comparazioni sulle varie tecnologie che ha avuto un grandissimo successo oggi e siamo veramente molto soddisfatti. Avete un ufficio sviluppo estremamente efficiente? Assolutamente, non abbiamo uno, in realtà ne abbiamo due perché la tecnologia che noi oggi offriamo sul mercato necessita di due know-how differenti, uno è quello italiano dove noi abbiamo l'arrendi di Ranciglio a Parabiago più di 15 persone lavorano lì per il prodotto tradizionale ma poi abbiamo mantenuto l'arrendi svizzero con anche lì 15 persone vicino a Zurigo dove c'è anche la nostra sede, la nostra filiale in quanto logicamente hanno la competenza sul prodotto superautomatica che è più svizzera tedesca e che ci aiutano logicamente a sviluppare e innovare i nostri prodotti sempre con un unico obiettivo quello di portare la miglior qualità e affidabilità dei prodotti in tazza per il cliente finale. Io non ti ho interrotto nel corso di questi minuti proprio perché avevi preso la giusta strada per presentare tutto quello che state esponendo qui a Host 2019, non posso che farti i miei più sinceri complimenti perché davvero esponete tantissime cose nuove, tutte efficienti, tutte bellissime. Andrea, grazie. Grazie a te e veniteci a trovare anche in azienda per provare i nostri prodotti. Ricordiamo a questo punto un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per avere maggiori informazioni sui vostri prodotti. Mi trovo impreparato ma diciamo ci provo info at ranciliogroup.com Grazie ancora. Grazie a voi.